e per tutto ragazzi io sono cd di sete e oggi vi do il benissimo episodio di youtube a ragazzi trovo un video corto non so quando dovrà provare chiudo minecraft perché perché sotto volta ed flag la nera rossa sospensione dell'attività e niente voglio vedere perché creati e survival non cambia niente tanto comune la di eliminarlo appena l'inverno poi ovviamente il 24 forse qualche giorno prima anche per il 25 caricherò il video della prima natale penso che farò un video natale ok dipende o carico ma in canale che però mi sa che voglio ci ha fatto col col suo halloween comunque che domani graffi video che è stato bello ed è anche un'opportunità penso di riuscire a mettere il il la scelta adatta quindi quindi spero questo vi sia piaciuto corto se vi è piaciuto ragazzi mi raccomando il bel mi piace commentate condividete iscrivetevi al canale attivate la campagna seguitelo su instagram che ho c'è la cd di centro basso ip centro basso ufficiale ragazzi uscendo il vostro cd questo è tutto ragazzoli ciao